Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePah17 e oggi siamo tornati su Ratchet & Clank per un nuovissimo episodio Ok ragazzi eccoci tornati qua, come avete visto sul canale sono riuscito a ripubblicarvi il primo episodio Purtroppo causa copyright, non potrò mostrarvi le scene filmate di questo titolo Perché se no mi bloccano il video, però comunque potrò portarvelo sul canale Al massimo ragazzi dopo ogni scena filmata vi spiegherò che cosa è successo Adesso direi di procedere nella nostra avventura su questo videogame Dovevamo compiere la prima missione dopo che praticamente ci hanno reclutati tra i cadetti dei guardiani della galassia Va bene direi di procedere subito senza perdere altro tempo in altre parole Perfetto ragazzi come potete vedere abbiamo completato tutte le missioni su Kerwan Adesso possiamo andare su Aridia dove possiamo andare a recuperare Skid Mac Marks E poi su Nebula G34 dove però prima di andare su Nebula G34 ci chiedono di recuperare proprio quel ragazzo Quindi direi prima di andare su Aridia Perfetto si parte con la nostra nuova astronave con questo astro caccia Ok siamo arrivati Atterriamo vediamo se riusciamo a trovare subito Skid Ok allora Quello lì è Skid Mac Marks L'abbiamo già trovato? Quella Skid Quella? Per fortuna siete arrivati voi ragazzi Tranquillo amico Perfetto ragazzi dobbiamo eliminare gli squali Della sabbia Attenzione Attenzione Ok Perché così Skid può recuperare la sua astronave e andarsene via da questo postaccio Volevo dare solo un'occhiata di qua però prima Allora qui c'è una cassetta Fantastico Perché come potete vedere ci sono altre cose da vedere qua Allora però prima potevamo magari un attimo andare a potenziare le armi Fatemi vedere che cosa possiamo fare Allora Vabbè Acquistiamo le munizioni Martello Protonico Mister Zurkon Eh non so quale dei due acquistare Proviamo questa Ok Ne ho abbastanza per prendere anche Mister Zurkon Allora prendiamo anche lui Potenziamo le armi Allora Potenziamo il combustore magari oppure la granata fusione No facciamo che potenziare quella nuova che abbiamo acquistato Il Martello Protonico Oloschede I nemici sconfitti rilasciano un numero maggiore di oloschede Se no durata Area d'effetto Ma vai di durata va Di durata Area Area E basta direi Dai va bene così Va bene così Perfetto Procediamo Senza perdere altro tempo Qui ci sono C'è un'altra cassetta degli attrezzi con altri bolt Fantastico Allora Diamo una mano a Skid In cambio In cambio ci darà un hoverboard Quindi non è male Attenzione Squaletti Ciao Ok Eliminati Perfetto Sembrerebbe una missione Abbastanza semplice Abbastanza semplice Quanti ne arrivano Mamma mia Ok 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 Mamma mia Quanti erano Ce ne sono ancora due Ah ma devo eliminare proprio la pianta Ok Ah è perché era la pianta che ne produceva E cosa caspita c'è Posso distruggere qualcosa qua No Ehm Qui ci sono altri squaletti Devo eliminare la pianta Prima Ok Non mi hanno minimamente toccato Perfetto Mamma mia Che Botte da orbi Sì Vado io Vado io Skid Tranquillo Ok ragazzi Ho fatto fuori le tre piante Adesso facciamo fuori i singoli squali Come vi ho già detto Negli altri episodi Ragazzi se siete in dubbio Se prenderlo oppure no Questo titolo Io non ho mai giocato A Ratchet and Clank Scusate se sbaglio sempre Qualche volta A pronunciare il nome Però mi sta piacendo Veramente Veramente Tantissimo Come titolo Aia Eh mi sono dimenticato Che prima devo sparare A quelli lì Se no mi danneggiano Allora dove caspita sono Ah ok 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 sono qua Ma dove caspita è la sua astronave Questa qua Sì Però mi ha detto che mancano ancora degli squali Quindi andiamo a cercarli Dovrebbero essere là sotto Esci da qua No Ok ragazzi Gli ultimi squali sono qua Che cacchio è quello lì Ah ma è da far fuori È un nemico Mazza che corazza Ok Però abbastanza semplice da abbattere Ma non riesco a capire Se sono con me O contro di me Però sembrerebbe che stiano Combattendo Accidenti ho finito le Le munizioni Sembrerebbe che stiano Combattendo gli squali Anche loro Boh io li attacco Così Un problema in meno Diciamo Ok Esploso Ok Uh il tipo Ok Vai 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 Caspita sono in due In due Ok uno è andato Facciamo fuori anche l'altro Aia Ok Ok Perfetto Eliminati entrambi Incredibile Ok Allora quello lo facciamo fuori Dalla distanza Perfetto Così ci danno un sacco di bolt E non rischiamo di morire Mi prendo la vita Ottimo E poi Procediamo di qua Mi sa di sì Perché l'ultima È l'unica strada percorribile Ok Ok E quindi Ah ok Possiamo andare di qua No Ok Ottimo Così non sono Non mi sono danneggiato No 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 Accidenti No Non avevo capito Che era una piattaforma mobile Accidenti Era una piattaforma mobile Ok Qui Non colpiamo nulla Perfetto Ok Abbiamo sbloccato tutto Non mi aspettavo fosse una piattaforma mobile Quella lì Dove caspita siamo arrivati Che caspita mi hanno trovato Wow Una nuova arma Sì Una nuova arma Fantastico Ok Dobbiamo sbloccare quella lì Lì sotto Con La chiave inglese Perfetto Vediamo cosa succede Vediamo cosa succede Ok Mi ha sbloccato una porta Qui c'è qualcos'altro No Allora procediamo Proviamo a sparargli alla corazza dietro Esplode Ok Lo colpisco dalla distanza Sì Esploso Ok Perfetto Abbiamo raccattato altra roba Di qua Mi sa che non andiamo da nessuna parte Andiamo di qua Trova la gente di Skid Ok Gli sparo dalla distanza Così non c'è il rischio Che mi danneggino Ok Esploso C'è un altro di là Che mi ha già visto Eccolo che arriva Wow E' finito giù E' finito Ma è ancora vivo Mi arriva un altro Ok Stiamo Stiamo un attimo qua Aspettate Prendiamo la granata fusione Ok Beccati questa Ok E' morto Ah no Adesso è morto Fantastico Ah forse di qua Eccolo No So cascato giù C'è un nemico lì C'è un nemico lì Ok L'abbiamo eliminato Fantastico Beh che sono comunque nemici Molto molto semplici Eh Ok Sì Dobbiamo andare di qua Vai Vai Ratchet Ok Ottimo Aia Che caspita Esploso Ok Dobbiamo arrampicarci Di qua Perfetto Dovremmo essere in cima Forse A parte gli squali Scusate Facciamo così Ok Non mi va di Non ammazzare Tutti i nemici Quindi facciamoli fuori tutti Ah ecco la gente Ecco la gente di Di skid Ok ci sono un po' di nemici qua Ok Ok Dai Dai che li facciam fuori Dai che li facciam fuori Sto sprecando un sacco di colpi eh Oh no Oh no Oh no Altri nemici Vai di granata Nuovo livello della granata fusione Fantastico Probabilmente più potente Così Vai Aia Oh no 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 L'elicottero no Ehm Pistola Ok Lui spara lì Ok Non è impossibile Ok Dai che lo stiamo Danneggiando Come non mai E' esploso Si Fantastico Fantastico Signori Veramente Fantastico Tranquillo Nessun problema Ok ragazzi Dobbiamo Eliminare Di nuovo Altri squali Della sabbia Per aiutare Praticamente La gente di skid Magni e scarponi Ok Nebula g34 Nebula g34 Fantastico Probabilmente ci permette di sbloccare una nuova area Dicevo Dobbiamo eliminare Praticamente Gli squali della sabbia Per permettere a questo tizio qua Che sarebbe la gente di skid Di poterlo raggiungere All'astronave E quindi scappare Tutti e due insieme Allora Torno all'astronave Teletrasporto Signori Stile star trek E Sì ma gli squali Li abbiamo già fatti fuori tutti Se non sbaglio Oppure no Skid Di nuovo Oh mamma Vabbè Facciamoli fuori di nuovo Ok ragazzi Siamo arrivati qua in cima Dove ci sono un bel po' di piante Probabilmente ci chiedevano di liberare La zona qua Perché la zona sotto L'avevamo già fatta prima Perché sono tornati poi alla grande Alla carica di nuovo Ok Quella zona lì è andata Mi mancano sempre una trentina di squali Mi prendo un po' di vita Fantastico Adesso scenderei sotto Ok La pianta è andata Adesso Devo far fuori tutti questi squali Mamma mia Quanti sono Ok ne manca ancora uno Perfetto Perfetto Li abbiamo fatti fuori tutti quanti Adesso potranno raggiungere tranquillamente L'astronave Infatti skid è già qua Prego amico Grazie Perfetto ragazzi Se ne stanno andando Dopo che ci hanno praticamente chiesto Se volevamo partecipare a Questo evento Con l'overboard Che skid praticamente ci ha regalato Ok dove caspita stiamo andando Ah potevamo andare qua Ok Beh direi che possiamo concludere L'episodio di oggi qua Abbiamo salvato skid Il suo agente Gran bella missione Ratchet Ragazzi spero come sempre Che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui Su Ratchet & Clank Alla prossima Ragazzi Ratchet & Clank Ratchet & Clank